Quasi un paradosso dopo un grande giorno di ritorno doversi giocare il terzo posto all'ultima giornata. Siamo molto bravi a complicarci la vita, abbiamo un po' vanificato quello che di buono abbiamo fatto nella seconda parte di questo torneo, però nello stesso tempo siamo consapevoli che era un calendario di quelli impegnativi e così si è rivelato. Abbiamo ancora 90 minuti a disposizione per cercare di salvare questo obiettivo. Tra l'altro non un cliente facile, la Vibonese non è ancora certa del piazzamento in zona playoff, quindi avrà bisogno di punti. È un po' quello che ci è successo nelle ultime sette giornate, abbiamo sempre incontrato squadre che per un motivo o per un altro avevano ancora qualcosa da dire a questo campionato. In più andremo ad incontrare una Vibonese che credo sia una delle squadre più in forma del momento. Hanno sicuramente allestito un organico di grande spessore, sarà difficilissimo. Mancherà lo squalificato d'Angelo, rientrerà però Cirilli. Ci può essere qualche altro problema di formazione con Citro? Citro ha avuto un problema, lo valuteremo domani dopo la refinitura. In questo momento non ci sono delle buone indicazioni, però nello stesso momento l'abbiamo sempre detto, in più di una circostanza abbiamo elementi in organico che sono in grado di sopperire a queste esistenze. Siete praticamente chiamati a vincere, la Gelbison ha un impegno sulla carta più facile contro il Ribera? Sicuramente, sulla carta è un impegno difficilissimo dal punto di vista delle probabilità, abbiamo poche chance come dice qualcuno, però noi siamo abituati a queste situazioni, in un certo senso abbiamo più volte dimostrato e che siamo in grado di cambiare i pronostici e speriamo che sia la domenica giusta. Si attende una reazione d'orgoglio dopo due gare meno convincenti dal punto di vista della continuità di gioco? Dal punto di vista della prestazione e dell'impegno, l'ho detto più volte, non ho niente da rimproverare a questi ragazzi perché sull'impegno non c'è niente da dire, però sappiamo che per essere competitivi, per centrare dei programmi importanti, ambiziosi, abbiamo bisogno della migliore prestazione, noi lo abbiamo ampiamente dimostrato in questo campionato, quando riusciamo a mettere assieme più componenti possibili, dalla determinazione alla concentrazione alla motivazione, riusciamo a essere un avversario difficile per tutti, quando lasciamo qualcosina fuori dal campo di tutte queste componenti allora diventiamo una squadra normalissima. Ci sarà una bella cornice di pubblico, le Bibionese hanno annunciato ingresso gratuito in curva proprio per avere più pubblico in questa ultima giornata di stagione regolare. Un motivo in più per cercare di prepararci bene, per cercare di essere pronti all'impatto, anche perché loro lo hanno più volte sbandierato, ci tengono in modo particolare, è una piazza che non ha digerito assolutamente la retrocessione dello scorso anno, questo potrebbe essere per loro un passaggio fondamentale, perciò per noi deve essere uno stimolo in più sicuramente. Deve cambiare soltanto l'approccio alla gara o ci dobbiamo aspettare qualche cambio, anche informazione in vista della prossima partita? Abbiamo delle situazioni da valutare per bene, perché è vero che è una partita molto importante, però nello stesso tempo noi, qualunque sia il risultato, abbiamo sempre da pensare al proseguo di questo campionato. Dobbiamo valutare un po' gli infortunati, nello stesso tempo abbiamo dei diffidati che possono rivelarsi determinanti per la partita con la Gelbeso, perché con qualsiasi risultato sarà quello il nostro avversario, perciò la valuteremo attentamente, valutando anche il proseguo. Grazie a tutti!